Viaggiavano in auto con l'eroina e la cocaina nascosta sotto il tetto di una Fiat Punto. Droga che al dettaglio avrebbe fruttato 150.000 euro. Due persone, un catanese e un palermitano, sono state fermate durante un controllo al casello di San Gregorio. I finanzieri hanno sequestrato un chilo di eroina e 27 grammi di cocaina purissima. Droga destinata al mercato catanese.